Allora, per chi non mi conosce, mi chiamo Staninos Buman, lavoro con il Corso Puntempi da vari inglesiani. Sono greco, quindi dovrete per forza perdonare il mio accento italiano prefetto, anzi dovete perdonare anche qualche ordine di grammatica. Se non conosco Puntempi stiamo facendo la ricerca su diversi argomenti, uno di quelli è le strutture biotiche, in generale se volete la sostenibilità indifiziale, e questa ricerca è la nostra organizzazione. Poi vedete da destra una foto che ho fatto io 4 anni fa a New il Giorg, il Christaor, stanno insieme al di Manhattan, forse una delle strutture più problematiche della tecnologia di avere che esistono d'ora. Qu'arriò come una generica definizione della sostenibilità, potrebbe chiamato una tutta la situazione del campo dell'intenerea strutturale. Forse la definizione più classica, quella della commissione Brundtland, Brundtland era il primo ministro del Canada, che ha definito lo sviluppo sostenibile come quello sviluppo che, diciamo, soddisfa i bisogni delle presenze senza cambiamenti della capacità delle future generazioni di soddisfare i loro bisogni. Proprio ho messo tutto in inglese, quindi per forza devo tradurre alcune cose in italiano. Quindi, come vedete, sono diversi aspetti. C'è la sostenibilità da un lato, però poi c'è l'interazione con l'ambiente, l'economia, il campo sociale e così via. Quindi sono tante interazioni. Per quello che riguarda l'utilizzo di acciaio e la forma strutturale, come potete vedere a destra, per quello che riguarda l'acciaio è un materiale assolutamente sostenibile, nel senso che circa il 40% delle risorse provengono da riciclaggio, poi viene manufatto in un ambiente protetto, controllato, a differenza, diciamo, di cemento armato. In la fase di costruzione c'è anche la possibilità di fare prefabricazione, poi durante la vita strutturale di servizio, in generale comporta una riduzione del peso delle strutture rispetto ad altri materiali, anche diversi altri vantaggi che possono esistere oppure no, poi alla fine della vita utile si può smantellare e riusare di nuovo. Questo per quello che riguarda l'acciaio come materiale. Se passiamo anche alla forma strutturale, che è appunto l'argomento di questa presentazione, si può tenere un risparmio del peso, quindi anche del costo, di un edificio usando delle forme strutturali particolari. Poi in questo caso, che vi faccio vedere anche nella foto di Copertina, qui stavo da New York, dove praticamente, saluto in quello studio di Foster & Partners, che è il progettista, l'architetto progettista, loro sostengono di aver diminuito il peso dell'acciaio utilizzato del circa il 20% rispetto ad una struttura classica, tipo a offrire ancora quella che vedete a sinistra. Poi c'è anche un altro aspetto, sempre per gli edifici alti, la sostenibilità energetica. Diciamo che c'è una tendenza adesso di cercare di implementare tecnologie come quelle per esempio della building automation, quindi tecnologie del campo di ingegneria elettronica, per mantenere più bassi i consumi dell'energia. Quindi questa è una tendenza che in qualche modo va in parallelo con lo sviluppo del campo strutturale. Ho voluto mettere in questo slide, perché se cercate in giro su diversi siti, potete trovare anche alcuni casi dove cercano di combinare i vantaggi di una forma strutturale, appunto, con il spam energetico, come in questo caso, facendo un canale di ventilazione, praticamente un effetto cammino dall'esterno verso l'interno di su per la ventilazione dei spazi su un edificio alto. Questo è tanto per avere un panorama. Torniamo a un discorso di interesse, diciamo, di campo di ingegneria strutturale. Questa è una classificazione dovuta a Han, negli anni sessanta, poi ripresa da Ali Moon nel 2007, che praticamente suddividono edifici alti in due categorie. Quelli che chiamano interior structures, quindi strutture interne, che sono quelle strutture che resistono ai carichi orizzontali esterni, soprattutto con il loro interno, con un ingegnimento, diciamo, interno. Però la tendenza è, soprattutto quando si parla di edifici più alti, un po' più alti, di usare, di progettare strutture che vengono chiamate exterior structures, quindi strutture esterne, una delle quali anche i vieti, che praticamente resistono ai carichi esterni o risultali, per la loro forma, cioè proprio della forma dell'esterno. Come diciamo, il Diagri fa parte di questa tipologia di strutture. Alcune cose sul Diagri ho preso, diciamo, da alcuni libri, alcuni commenti sono stati fatti da diversi personaggi. Barclister Fuller, che forse lo conoscete, che era uno dei progettisti, diciamo, di strutture molto simili, anzi ad eccedenti al Diagri, fa questa affermazione che il sistema della natura di coordinamento, coordinazione, è appunto basato su triangoli, come il caso del Diagri. Questo invece, secondo un bruselista del Kiss Tower, che praticamente mette in evidenza alcuni vantaggi, come la rigidezza, l'efficienza e la leggerezza del Diagri per le strutture tradizionali. Poi c'è anche la parte, diciamo, dell'immagine, nel senso che un studio architettonico che procede da una struttura che è sostenibile, deve essere sostenibile, io mi chiesto che sia sostenibile, questo è il caso del Diagri. Poi una ultima affermazione, che praticamente fa il parallelismo fra un busso e il Diagri, che potrebbe essere stato un busso discretizzato in qualche modo. Storicamente, questo è forse uno dei primi percursori dell'edificio di Diagri, non è proprio un edificio che è un attore, progettata da Suphovi di Russia nel 1896, se non sbaglio gli istituttori, ci sono anche diverse strutture progettate da lui simili, è un'iperboloide ad una falda, che praticamente si è stato progettato per una fiera, però è molto emblematico, forse la foto non si è che mi sembra molto bene perché è presa dal basso. In effetti ricorda alcuni edifici presentati anche di recenti. Dobbiamo passare agli anni cinquanta per arrivare a questa struttura di Magnester Fuller, che fa anche questa resistenza tutta ora, mi sembrava spostata, che praticamente ha una forma di tralizzo, se ho fatto anche una foto in dettaglio, come vedete fa le strutture di Diagri all'esterno, che resistono per fuori. Questa è una monta immagine. Poi se iniziamo nel caso di edifici residenziali oppure di Office Billings, come in questo caso, questa strana struttura di neumatica, che è l'edificio dell'IPM, che riserva in anni 60 a Pittsburgh. Non è molto alta tra le 10 piani, però è anche questa emblematica. Ecco un'altra foto. Di giorni odierni, è un caso di struttura, un edificio residenziale, che è stato progettato ed è costruito del centro all'Ondra. Anche in questo caso abbiamo una struttura di Diagri all'esterno. Forse si può vedere qua, in diverse diagonali, alcuni particolari. Sembra un collegamento. Anche questo sono alcuni particolari costruttivi dei modi di collegamento. questo non so se lo conoscete se l'avete visto. Il famoso Jack. Jack, che non crede che non so come si funziona. Indigliare in italiano sarebbe un centro l'oro sotto a cedro? sono tante controversie quando lo simbolo si va a inserire una struttura moderna in un paesaggio che già esiste però comunque è diventato un landmark in qualche modo di Londra ha una forma particolare e anche molto aerodinaria in effetti sempre dal sito di Fostling Partners è stato un'immagine dell'analisi che hanno fatto sotto vento un ultimo caso che ho messo è una struttura molto particolare molto complessa fatta praticamente di sei blocchi di edifici la torre della tv cinese a Pechino questa foto durante la costruzione anzi un'altra stavo in giro a Berlino un mese fa ho trovato questo edificio in costruzione ho voluto fare la foto ma non ho capito chi l'ha progettato passiamo su un lato un pochino più tecnico il sistema strutturale praticamente sono moduli che di solito occupano 4 piane sono diversi nodri con il piano quindi anche del diagonale con il piano e poi chiaramente i carichi vengono distribuiti sulla terra per quello che riguarda la parte analitica anche quella che viene utilizzata anche nelle analisi sono delle formule molto semplici per far vedere l'effetto dei carichi cartazionali dei momenti occidenti del taglio a seconda dell'angolo che formano i triangoli che praticamente è uno dei parametri che potrebbe essere un progetto di ottimizzazione a livello di progettazione detto questo vorrei mostrarvi un caso che abbiamo sviluppato qua con il professore una studentessa della laurea magistrale qualche anno fa fra l'altro lei ha sviluppato un'attività che ha avuto anche un premio di laurea qua in Italia avevamo a disposizione un edificio progettato un edificio classico tipo Outrigger progettato fra l'altro fra i progettisti i risultati di professor Contempi costruito in latina non so se ve l'ho fatto vedere in qualche stile precedente in realtà è stato progettato all'inizio in acciaio però mi sa che è stato costruito in cemento armato quindi sulla base di questo edificio abbiamo cercato di progettare una struttura simile indietro per capire quali potrebbero essere i vantaggi soprattutto a livello di peso poi sul puntamento strutturale abbiamo pensato diverse inclinazioni delle due monali queste sono le tre ai quali siamo arrivati in 42 gradi in 60 gradi in 65 gradi abbiamo pensato di fare il confronto l'edificio è abbastanza alto in 160 metri in un'edificio di circa 40 piani quindi in buona sostanza siamo passati da una struttura outriglia ad una struttura di euro che praticamente è composta di due strutture una perimetrale che ha come obiettivo di resistere ai carichi laterali soprattutto l'iferno ma anche a quelli di aggrazionali è una interna che come obiettivo si pone di resistere a di ponere in resistenza ai carichi permanenti antropici alcuni dati su materiali utilizzati per le tipologie di alzaio standard alzaio design standard simple per la struttura interna 460 per quella per ridurarle anche al final la sezione sulla geometria come vedete c'è un piano di rigidimento in costruenza al vento del dinovesimo piano poi sono state utilizzate diverse tipologie di gravi servono 14 tipologie a seconda di carichi agenti lo stesso anche per le polone a seconda di carichi agenti della posizione su diversi cani io vorrei farvi vedere alcuni risultati preliminari perché abbiamo considerato solo alcuni casi limitati di carichi per esempio noi abbiamo considerato la zona sismica siamo più interessati alla zona del vento poi chiaramente anche la moderazione può essere soggetta a diversi miglioramenti diverse combinazioni di carico la cosa importante è il peso praticamente per le diverse definizioni delle diagonali abbiamo ottenuto un risparmio del peso che va dal 19 al 33% rispetto dalla struttura originale è un grosso risparmio ma comunque in linea con quelli che dichiarano anche altri progettisti su progettazioni di modificio del tipo di le classiche analisi moderali su green 6 modi di relazione ma questa è l'azione del vento l'edificio si trova a latina quindi se non sbaglio è una classica di velocità beta in un'azione del vento medio su 10 minuti del 27 metri al secondo diversa combinazione di carico per la verifica degli stati limite di servizio noi siamo interessati praticamente agli spostamenti risultati questi sono i primi risultati numero di altezza dell'edificio spostamenti in cima questo è il limite imposto dalle norme viene ovviamente rischiattato quindi la combinazione di questi grafici in uno vedete qua che abbiamo dei spostamenti in ordine dei 15 centimetri di fronte a un limite di 30 centimetri l'unica cosa che si può dire su questi risultati è che la struttura di agri di 75 gradi e la struttura classica sono quelle che è sensibili rispetto alle altre due poi sono state delle analisi pushover sotto tre diverse combinazioni di radio una che è solamente teoria solo carichi orizzontali l'altra carichi orizzontali più permanenti poi la terza quella più completa che contiene i carichi anglosi perché abbiamo assoluto una combinazione teorica per spingere diciamo un modello oltre alcuni limiti e fare meglio ad alcuni dettagli che vedremo nelle prossime slide questa invece la ripartizione fra struttura interna e esterna delle forze di taglio e le forze normali per le diverse tipologie di ieri come vedete la maggior parte sia del taglio ma soprattutto del taglio ma anche delle forze normali che viene presa dal ieri no alcune definizioni su sulle serenelle plastiche che è praticamente il legame costitutivo che è rigido e in questo caso è veramente plastico questo per le serenelle assiali invece per quelle rotazionali è un legame a dipundimento che è stato preso stravolando a tutti gli altri in una normativa americana che è la 356 i risultati sono questi qua abbiamo solo i carichi regionali quindi nel caso di combinazione un po' solo come vedete già step 25 a sinistra non so se si vede molto bene inizia la formazione di serenelle qua nelle diagonali del diagri anche la struttura interna si forma come serenelle step 37 le serenelle vanno verso l'alto si sviluppano verso l'alto nel 44 si forma anche si forma anche qua e qua nelle basi della struttura tradizionale step 51 abbiamo il collasso vedete qua però comunque andando avanti anche perché si può scrivere ancora l'analisi come vedete nel grafico forza spostamento qua ci siamo spinti fino a 3,5 metri di spostamento insieme che è un valore assolutamente teorico abbiamo fatto le stesse analisi con la combinazione che tiene conto anche i carichi verticali come vedete rispetto a quella di prima la curva è più bassa le analisi fermano un pochino prima chiaramente il primo caso è teorico questo è reale però a noi piace vedere anche cosa succede dal punto di vista teorico sulla struttura quindi era interessante queste sono le tre diverse combinazioni di carico per le curve per le diverse strutture quindi il caso teorico con carichi orizzontali orizzontali più permanenti e orizzontali più permanenti più altrucci poi si è posto il problema di decidere quale delle tre strutture potrebbe essere la migliore questo è stato fatto su tre parametri la rigidezza la massima forza e la dubbillità in effetti abbiamo calcolato per diverse combinazioni di carico per le diverse strutture i valori di questi tre parametri chiaramente anche il quarto che è il peso che abbiamo visto all'inizio si è posto il problema di come valutare quale è la migliore struttura abbiamo scelto questa equazione è praticamente una media pesata che favorisce con coefficiente del tipo 1.2 il risparmio del peso quindi applicando questa formula la struttura migliore risulta quella di a drift con l'inclinazione della diagonale al 60 gradi i stessi risultati potrebbero avere anche in una forma un grafico radar quindi per le quattro diverse strutture quella in verde che intende quella iniziale quindi si possono vedere anche le differenze per definire la robustezza di questa struttura probabilmente il professore vi ha parlato della robustezza quindi vi ho fatto vedere questo grafico per definire la robustezza per definire la robustezza avendo a disposizione due elementi strutturali diversi per esempio il pilastro cerchiato è un pilastro classico con le staffe allora all'inizio sulla prestazione nominale quello cerchiato è una prestazione superiore rispetto a quello classico però se uno va a tagliare il ferro la prestazione crolla invece se uno toglie il ferro da un pilastro classico della staffa succede per poco se basta la prestazione però non così tanto questa è una classica definizione diciamo della robustezza a livello qualitativo che apprezzata sempre che fa capire diciamo la differenza a una struttura robusta e a una struttura meno robusta abbiamo pensato di fare qualche test eliminare di robustezza sempre facendo analisi di software su nostra struttura però in questo caso eliminando delle diagonali praticamente abbiamo considerato se in diversi casi dovremmeno eliminate una o due diagonali in questa zona qua quindi un caso è eliminare una diagonale secondo caso è eliminare tutte e due così via qua qua abbiamo cercato di capire cosa succede qua si vedono alcuni risultati numerici sulla formazione delle cerniere però forse quello che è importante vedere a livello qualitativo quello che succede su un grafico forza spostamento in pratica eliminando una diagonale siamo passati da una situazione nominale a questa qua quindi una diminuzione del circa 10-15% delle velocità eliminando la differenza è ancora più elevata dell'orne 20-25% che è un valore abbastanza elevato però comunque non tantissimo cioè non mi aspettavamo di più eliminando le laste in questa zona che sono i grafici in due e azzurro succede ben poco nel senso che la struttura è poco abbastanza diciamo robusta sull'eliminazione di una diagonale in quella zona lo stesso va anche per le diagonale in cima praticamente sono delle curve tutte e quattro curve difficili da distribuire chiaro quelle più azzurre e blu sono più in basso però i risultati sono minimi con questa ultima slide ho finito ho pensato di mettere alcuni riferimenti se qualcuno volesse approfondire sia sulla parte della sostenibilità ma anche sulla parte di fissi di abit e sull'analisi che abbiamo fatto e poi tengo anche un poll su Pinterest e tante figure delle volte per le prestazioni le prendo da là tutto qua va bene possiamo eh Ufff